La prima canzone, sperando che verrà provata da YouTube, la vorrei dedicare ad una personcina piccola ma speciale che non ha mai visto questo mondo, ma che so che ama questa canzone perché in un'altra forma è sempre canto a me. Sottotitolerò anche in francese questa parte per permettere a chi la conosce meglio, cioè le persone francofone, di apprezzarla ed ascoltarla. Buon ascolto a tutti. Grazie 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 a tutti.